Una buona giornata a tutti quelli che vorranno passare un po' di tempo ad ascoltare questo video messaggio. Oggi è venerdì 19 giugno e è finita la mia giornata di lavoro e prima di rientrare a casa volevo parteciparvi a una riflessione un po' legata all'argomento che ho trattato qualche giorno fa riguardo al Vangelo di Matteo, il capitolo 7, versetto 21. In quella riflessione, per chi l'ha ascoltata, chi non l'ha ascoltata, la può andare ad ascoltare se lo desidera, così capisce meglio anche questa riflessione che farò questa sera. In quella riflessione ci siamo concentrati molto a parlare del significato delle parole di Gesù che abbiamo letto nel versetto 21 del capitolo 7. E abbiamo visto che quando Gesù parlava di fare la volontà di Dio intendeva porre la propria fede in Lui, cioè fa la volontà di Dio chi crede in Gesù. Era questo un po' il succo di tutto il ragionamento. Alla fine di quella riflessione ho speso qualche parola riguardo poi al cammino cristiano, cioè dopo aver creduto in Gesù. Cosa deve fare colui che ha creduto in Gesù? Cioè è sufficiente credere in Gesù per essere salvati? La risposta è sì, però poi siamo chiamati a portare dei frutti, perché il Signore Gesù dice nel Vangelo di Giovanni a capitolo 15, se non sbaglio il versetto 8, dice che il Padre in questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto. Quindi la vita cristiana non si ferma al credere in Gesù, cioè quando io ho creduto in Gesù, non è che ho creduto in Gesù, sono salvato, quindi è finito tutto. No, da lì comincia. Nel momento in cui si crede in Gesù, poi comincia un cammino, un percorso. Un percorso che il credente non farà mai da solo, lo farà sempre con Gesù, però il credente è chiamato a portare frutto per la gloria di Dio. Quindi perché dico questo? Perché vedete, noi viviamo in una nazione cristiana, una nazione che si definisce cristiana. L'Italia è il paese dove c'è la sede del cattolicesimo, quindi diciamo che come nazione è una nazione che si definisce cristiana. Tutti dicono di credere in Gesù, ma che cosa significa credere in Gesù? Cioè io questa sera non voglio mettere in discussione la vita religiosa e spirituale di nessuno. Vi invito soltanto a fare un esame personale, perché qui parliamo di vita eterna, parliamo di salvezza dell'anima, se parliamo di salvezza parliamo anche di perdizione. Quindi il motivo per il quale mi accingo a fare questa riflessione è perché sono convinto che chi ha ascoltato quella riflessione su Matteo 7,21 avrà detto in cursuo, beh sono opposto, perché io credo in Gesù. Infatti se voi chiedete a ogni singola persona che si definisce cristiana in Italia, se chiedete tu credi in Gesù, vi dirà di sì. E quindi si pensa di aver messo in pratica quel versetto di Matteo 7,21. In realtà bisogna dire una cosa molto importante, e non lo dico con spirito di critica, ma lo dico con spirito di misericordia, perché se vi dico queste parole e vi dirò quello che segue, è solamente per amore, non per giudicare, perché vuol dire che mi sta a cuore avvisarvi di alcune cose importanti, perché delle volte si pensa, anch'io pensavo così una volta, io credo in Gesù, quindi sono a posto, ho fatto già quello che dovevo fare perché ho creduto, quindi ho messo in pratica Matteo 7,21. In realtà le cose non stanno proprio così, perché vedete il problema di oggi è che molta gente ha sentito parlare di Gesù, ma probabilmente non l'ha mai visto. Molti dicono di essere credenti, di credere, non mi riferisco solamente a, non parlo di religione qua, non mi riferisco al cattolico o piuttosto che alla denominazione evangelica di qualcun altro, mi riferisco a ognuno guardi nel suo cuore. Ecco, diciamo così che quando dico così sono sicuro di non sbagliare e io non intendo sbagliare perché non intendo offendere nessuno. Però il problema sapete qual è? Che anche nel campo evangelico molti hanno sentito parlare di Gesù, hanno compreso, gli hanno raccontato le belle cose che ha fatto Gesù, ma quanti credenti veramente hanno avuto un incontro personale con Gesù? Matteo 7,21 dice che fa la volontà di Dio chi contempla Gesù e crede in Lui, ma attenzione però, ci devono essere dei segni, ci deve essere un frutto. Io adesso, io se dovessi intitolare questa riflessione con un titolo, la intitolerei La vera conversione, se dico vera conversione è perché purtroppo a volte ce ne sono delle non vere. Vedete, Giobbe stesso, Giobbe a un certo punto, nel capitolo 42, versetti 5 e 6, dice Il mio orecchio aveva sentito parlare di te, ma oggi, ma ora l'occhio mio ti ha visto. Quando Giobbe vide Dio nella sua gloria, quale fu il risultato di questa visione? Disse Mi pento, mi ravvedo e mi pento sulla polvere e sulla cenere. Ora non voglio parlare di Giobbe, perché Giobbe aveva un percorso diverso, egli aveva bisogno solo di essere raffinato, ma io adesso voglio fare una domanda. Se tu dici di credere in Gesù, credi in Gesù o hai sentito solo parlare di Gesù? Perché se tu credi in Gesù, allora lo hai anche incontrato, e se l'hai incontrato, vuol dire che ti sei anche pentito e ravveduto, perché vedete, la prima reazione di Giobbe fu ravvedimento e pentimento, cioè quando si ha la visione della gloria di Dio, quando un uomo, una persona, una donna, vede Dio nella sua gloria, non può fare altro che pentirsi e ravvedersi, perché di fronte a tale splendore, cioè vengono fuori tutte le nostre miserie. Ora, come abbiamo detto, Giobbe, la prima reazione, disse io mi pento e mi ravvedo, Giobbe, e non voglio parlare di Giobbe, ho solo voluto fare un esempio. Un esempio perché? Perché, vedete, molti al giorno d'oggi sentono parlare di Gesù, ma non realizzano la vera conversione. a volte tornano nel mondo, ma dove in realtà il loro cuore è sempre stato, perché non avendo realizzato una vera conversione, che significa invertire la marcia, erano sempre lì, non è che sono tornati, sono sempre stati nel mondo. Allora io mi ho fatto una domanda, perché spesso ci sono delle conversioni non vere? La risposta che ho trovato alla mia domanda è semplice, perché purtroppo non si predica più il vero Vangelo. Quando non si predica il vero Vangelo, il risultato è quello di non avere delle vere conversioni. Un Vangelo annacquato produrrà sempre delle conversioni annacquate, non vere. Al giorno d'oggi, purtroppo, si predica un Vangelo che non è quello che ci è stato tramandato dagli Apostoli, non è quello che leggiamo nelle lettere Paoline, nelle lettere degli altri Apostoli. Paolo disse ai Galati, al capitolo 1, versetto 8, se noi, un angelo del cielo, vi dovesse annunciare un Vangelo diverso, sia una tema. e ripete questa cosa più di una volta, Paolo. Quindi sta proprio a significare i pericoli che possono comportare, anche può comportare, un Vangelo non fedele, annacquato. Bene, io, conclusa questa premessa, vorrei iniziare la mia riflessione. Sono passati già nove minuti di premessa, ma vi chiedo di portare pazienza se spendete questo tempo ad ascoltare questa riflessione e un tempo che investite per l'eternità, perché qui parliamo di vita eterna e non sono barzellette. Allora, vorrei iniziare questa riflessione leggendo un versetto della scrittura, due versetti, anzi, in Seconda Corinzi, capitolo 5, versetti 17-18. Qui l'Apostolo Paolo che scrive e dice Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. E tutto questo viene da Dio che ci ha riconciliati con sé per mezzo di Cristo e ci ha affidato il ministero della riconciliazione. Ora, a tutti coloro che dicono di credere in Cristo, io gli faccio una domanda. Dico, bene, sei una nuova creatura? Sei una nuova creatura? Essere nuova creatura significa sei nato di nuovo? Sei stato rigenerato dallo Spirito Santo? perché dire di credere in Gesù non basta. Se quel credere significa sì, ne ho sentito parlare, sono d'accordo con lui, la vera fede, la vera fede in Cristo produce sempre uno stravolgimento della vita. Infatti qui Paolo dice chi è in Cristo, in Cristo ci si può essere solo avendo creduto in Lui, quindi se hai creduto in Cristo Cristo ti stravolge la vita, quindi sei una nuova creatura, quindi non si può dire di aver creduto e poi si rimane sempre vecchia creatura. Noi vediamo qui che l'Apostolo Paolo parla di una rigenerazione, una nuova creatura ed è importante, la rigenerazione è qualcosa di meraviglioso, è l'opera soprannaturale che compie lo Spirito Santo, la rigenerazione è qualcosa che avviene istantaneamente nel momento in cui si crede, ma vedete, questa rigenerazione è possibile soltanto se si passa per la via del pentimento e del ravvedimento. Quindi la domanda che faccio agli amici che ci ascoltano e a tutti quelli che adesso mi stanno ascoltando, se tu hai realizzato quello che c'è scritto in Matteo 7,21 allora sei passato anche per la via del pentimento e ravvedimento, giusto? Perché se non sei passato per la via del pentimento e ravvedimento allora mi sa che tu non sei neanche nato di nuovo perché l'unica via è quella la rigenerazione è possibile solo attraverso il pentimento e ravvedimento, altrimenti non c'è altra strada. quando un cuore si pente dei propri peccati quando la visione della gloria di Dio ti schiaccia ti mette quando il peso dei tuoi peccati ti schiaccia allora lì tu gride Signore salvami Egli ti salva e ti rigenera subito. Hai sentito questo peso del peccato? Ti sei sentito mancante davanti a Dio? Hai sentito proprio questo disagio davanti a Dio del peccato? Se tutto questo non c'è stato io forse in te qualche domanda me la farei perché probabilmente hai sentito parlare di Gesù e credi anche nel Gesù storico ma tu devi credere nel Gesù salvatore e non solo salvatore anche Signore perché Egli o è salvatore e Signore o non è niente nella nostra vita. allora quando il Signore ci salva e ci rigenera noi siamo nuove creature queste nuove creature hanno poi la capacità e le risorse da parte di Dio per mezzo dello Spirito Santo hanno la capacità di vivere una vita nuova cioè una nuova creatura con un nuovo cuore una nuova mente adatti a vivere una vita nuova quindi se se tu dici di essere nato di nuovo e poi non ci sono questi frutti nuovi nella tua vita qualche domanda fossi in te me la farei. La rigenerazione è un atto immediato che compie lo Spirito Santo poi c'è il percorso di santificazione quello è diverso da credente a credente ognuno ai suoi tempi ed avviene gradualmente però se sei nato di nuovo ieri è ovvio sei un bambino appena nato quindi non ci possono essere gran frutti ma se sei nato di nuovo se dici di essere credente da qualche anno e non ci sono frutti di nessun tipo fosse in te mi farei qualche domanda vedete la nuova nascita non avviene avviene per mezzo dello Spirito Santo e la nuova nascita non avviene accostandosi a un Gesù benefattore o guaritore oggi purtroppo si cerca un Gesù benefattore un Gesù guaritore un Gesù che risolve i problemi beh chi si accosta a questo tipo di Gesù non nascerà mai di nuovo perché la nuova nascita avviene soltanto quando ti accosti al Gesù salvatore e tu puoi cercare un salvatore solamente quando realizzi di essere perduto e purtroppo adesso si tende a predicare un Gesù benefattore perché si tende più che altro a riempire le sedie delle sale di culto delle chiese si si tende a fare numero e quindi chi è che non vorrebbe un Gesù benefattore un Gesù che risolve i problemi chi è che gli dice di no nessuno invece Gesù salvatore richiede un atto di umiltà molto forte richiede il riconoscimento del proprio fallimento tu non puoi nascere di nuovo se non hai se non cerchi questo Gesù oggi il cristianesimo tende ad essere ad accostarsi a Gesù al Gesù che rende questa vita più piacevole che risolve i problemi di questa vita non è sbagliato e attenzione però il problema sapete qual è che se speriamo in questo Gesù se speriamo se dice l'apostolo Paolo in prima Corinzi 15-19 lo leggo che è meglio Paolo lo dice meglio di come l'avrei citato io se abbiamo sperato in Cristo per questa vita soltanto noi siamo i più miserabili fra tutti gli uomini eccomi qua scusate c'è stata un'interruzione durante la registrazione allora stavamo dicendo appunto si è interrotto il video con la lettura di prima Corinzi capitolo 15 versetto 19 dove Paolo scrivendo dice se abbiamo sperato in Cristo per questa vita soltanto noi siamo i più miserabili fra tutti gli uomini quindi ecco vedete cercare Gesù benefattore solo per risolvere i problemi di questa vita addirittura Paolo dice se avete se sperate in Cristo solo per questa vita definisce miserabili coloro che cercano questo tipo di Gesù con questo non voglio dire che sperare in Cristo per l'aiuto di questa vita sia sbagliato anzi noi siamo chiamati a chiedergli proprio aiuto il problema è concentrarsi troppo su questa vita dimenticando il vero scopo per cui Gesù è venuto sulla terra lo scopo primario l'unico scopo per il quale Gesù è venuto su questa terra è quello di darci la vita eterna poi si si prenderà cura di noi l'ha promesso lo farà ma se speriamo in lui soltanto per questa vita siamo dei miserabili dice la scrittura l'errore è quando i beni materiali prendono il posto cioè quando i doni prendono il posto del donatore è lì che è sbagliato con questo non significa non sperare nei doni anzi siamo esortati a chiedere a Dio però il nostro cuore la nostra mente devono avere sempre come primo cioè l'eternità ecco noi dobbiamo sperare in Cristo anche per questa vita ma il nostro la nostra speranza principale deve essere quella dell'eternità infatti Paolo non dice dice che se abbiamo sperato in Cristo per questa vita soltanto cioè sta dicendo possiamo sperare in Cristo anche per questa vita ma se speriamo in Cristo solo per questa vita siamo dei miserabili quindi è importante quello che questo argomento perché ci deve portare proprio a riflettere a fare una una serena riflessione con noi stessi vedete il fatto di accostarsi al Gesù benefattore Gesù che risolve i problemi è molto pericoloso perché quando si presenta un Gesù che risolve i problemi un Gesù benefattore se qualcuno mi dice Mario cerca Gesù Gesù ti risolve i problemi Gesù ti fa del bene Gesù Gesù ti rende la vita più bella è vero ma non nel senso carnale ecco se si presenta un Gesù benefattore succede che quando poi il miracolo non avviene o ci sono le difficoltà se a me mi avessero presentato un Gesù benefattore io sarei rimasto deluso ma molto presto sarei rimasto deluso perché ai primi problemi della vita mi sarei detto e questo sarebbe il Gesù benefattore invece bisogna parlare chiaro quando cerchi Gesù chi cerca Gesù deve sapere che sta entrando a far parte di una guerra cioè se tu dici di credere in Gesù mi riferisco ai cattolici agli evangelici a tutti se dite di aver creduto in Gesù ed aver messo in pratica Matteo 7,21 sappiate che voi siete entrati a far parte di una guerra cioè io quando conobbi Gesù quando mi presentarono Gesù e ho avuto un'esperienza personale reale con lui beh io pensai in quel momento lì disse ecco adesso che ho Gesù ho risolto tutti i miei problemi invece conoscendo Gesù cominciarono i veri problemi perché su questa terra Gesù l'ha detto avrete tribolazioni ma fatemi animo io ho vinto il mondo mi accorsi che ero entrato a far parte di una guerra invisibile i primi problemi li ho avuti con la mia famiglia con la fidanzata con mia moglie che all'epoca eravamo fidanzati perché ecco Gesù era venuto a portare spada nella mia vita quindi oggi si fa molto presto a dire io ho creduto in Gesù ma va bene hai creduto in Gesù hai avuto un incontro personale con lui se hai avuto un incontro personale con lui allora vuol dire che ci deve essere un cambiamento nella tua vita non è un cambiamento radicale dall'oggi al domani l'ho detto già prima è graduale ma quotidianamente ci deve essere un cambiamento e questo cambiamento avviene sul percorso della santificazione e avviene nella misura in cui noi dimoriamo in Cristo più dimoriamo in Cristo più veniamo trasformati a sua immagine quindi vedete che facciamoci queste domande facciamoci delle sane domande e dire ho veramente incontrato il Signore ho creduto in Gesù ma in quale Gesù ho creduto il benefattore quello storico o il salvatore Signore un altro problema un altro motivo per mezzo del quale oggi non avvengono delle vere conversioni e un po' l'ho già accennato parlando del Gesù benefattore ma voglio voglio chiarirlo ancora un po' più approfondito questo argomento un altro motivo per il quale non avvengono delle vere conversioni è perché oggi si tende a seminare il seme senza zappare la terra allora il processo di semina deve avvenire successivamente io ricordo qualche estate fa mio padre chiamò un contadino per farsi zappare la terra e disse ci vorrei seminare qualcosa questo contadino che aveva un trattore disse bene se vuoi fare una semina fatta bene allora bisogna zappare la terra bisogna aspettare che piova che si bagni bene poi dopo gli diamo un'altra zappata col trattore e poi fai la semina cosa vuol dire questo vuol dire che oggi si predica un vangelo senza zappare la terra cosa significa per me zappare la terra significa predicare il pentimento il ravvedimento cioè se si semina l'amore di Dio in una terra non zappata non annaffiata questo seme non prenderà radice non diventerà una pianta prima di cioè prima di gettare il seme bisogna zapparla la terra che significa essere un po' come Giovanni il Battista predicare il pentimento il ravvedimento quando Giovanni era uno zappatore ecco io Giovanni Battista lo definisco colui che zappava la terra predicava pentimento il ravvedimento quindi andava a stravolgere i cuori quando si zappa la terra i cuori la terra viene stravolta le zolle più dure si rompono si frantumano ecco che dopo arriva la pioggia che è lo Spirito Santo che illumina questi cuori che sono stati zappati cioè una volta predicato il pentimento il ravvedimento arriva la pioggia lo Spirito Santo annaffia e allora poi puoi gettare il seme che è la predicazione dell'amore di Dio oggi si tende a predicare solo l'amore di Dio ed è sbagliato tu non puoi gettare il seme dell'amore di Dio in un cuore duro in un cuore non zappato bisogna zapparlo bisogna che questa terra venga macinata dalla zappatrice e quando si macina la terra la terra soffre quindi quando si predica il pentimento può succedere che chi ascolta questa predicazione rimanga soffra che venga rattristato ma è una tristezza che poi conduce al ravvedimento quindi va bene gettare il seme dell'amore di Dio dell'opera che Gesù ha fatto sai Gesù ti ama Gesù vuole salvarti però se prima non zappiamo questo terreno il seme che noi gettiamo è un seme che non potrà radicare zappare significa anche a volte farsi dei nemici perché predicare l'amore di Dio è molto bello a chi non piace sentir dire Dio ti ama Dio ti vuole salvare però quando invece andiamo a dire pentiti ravvediti perché sei sulla via della perdizione a volte ci troviamo anche di fronte a persone che ci dicono delle parolacce quindi si rischia ma è un rischio che bisogna correre perché solamente zappando il terreno puoi dopo gettare un seme e vedere un frutto abbondante quindi questo è l'altro motivo il motivo è questo il vero Vangelo consiste in tre passaggi molto semplici tre pentimento ravvedimento e conversione questi tre passaggi qui pentimento ravvedimento e conversione producono la nuova nascita oggi si vuole nascere di nuovo senza passare per il pentimento ravvedimento la conversione ed è impossibile quindi cari amici cari fratelli chiunque mi sta ascoltando voglio darvi queste ultime raccomandazioni ed esortazioni noi siamo chiamati a portare frutto per la gloria di Dio un albero che non porta frutto è un albero finto un albero che non profuma di Cristo è un albero artificiale abbiamo letto nell'altro argomento trattato che un albero buono porterà sempre frutti buoni quindi scusate ancora per l'interruzione un guasto tecnico e quindi stavamo dicendo che abbiamo letto nell'altro nell'altro riflessione abbiamo detto che un albero buono porterà sempre dei frutti buoni quindi chiediamoci quali sono i frutti che stiamo portando sono dei frutti buoni perché i frutti che porteremo parleranno della natura il frutto il frutto che porterai parlerà della natura dell'albero quindi vedete l'esortazione finale che voglio farvi è proprio questa se dichiarate di aver creduto in Cristo allora esaminate la vostra vita alla fine di questa riflessione ciascuno esamini se stesso per vedere la natura dei suoi frutti ho voluto parteciparvi a questi pensieri perché sono convinto nel mio cuore che chi ha ascoltato l'altro messaggio sicuramente alla fine avrà detto sì sono d'accordo io ho creduto in Cristo quindi ho fatto la volontà di Dio bene quella è la volontà di Dio è credere in Cristo ma da lì si parte da lì si inizia un cammino non finisce lì da lì si inizia si entra a far parte di una battaglia di una guerra spirituale quindi il motivo di questa riflessione è stato non quello di portare dei pesi a nessuno ma semplicemente quello di esaminare ognuno esamini se stesso per vedere se effettivamente ha creduto nel Cristo Salvatore e Signore perché se hai creduto solo nel Cristo benefattore molto probabilmente devi rivedere un po' qualcosa della tua vita e te lo dico con uno spirito di misericordia ed amore e l'amore e la misericordia che mi ha spinto a portare questo messaggio questa riflessione perché molta gente si illude di essere apposto con Dio perché dice io ho creduto in Cristo ma sei nato di nuovo perché la fede in Cristo genera la nuova nascita tu sei nato di nuovo sei nata di nuovo se sei nato di nuovo se sei nata di nuovo alleluia allora tu sei un albero buono sei una nuova creatura e se sei una nuova creatura devi vedere ogni giorno dei cambiamenti nella tua vita ci sono questi cambiamenti non che dall'oggi a domani perché la via della santificazione è un po' difficile e ne parleremo un'altra volta ma ci devono essere dei cambiamenti cambiamenti che devono essere visibili a tutti cambiamenti che progrediscono nella misura in cui confidiamo e dimoriamo in Cristo voglio portarvi solamente un esempio e poi vi lascio con alcune cose che ho scritto su Facebook tempo fa quando oggi molti dicono di credere in Cristo e tutti dicono di conoscerlo però purtroppo molto spesso non ci sono dei segni della nuova nascita io mi ricordo di un passo della Bibbia lo potete leggere nella Genesi al capitolo 32 a un certo punto si parla della lotta tra Giacobbe e l'angelo del Signore l'angelo del Signore lì rappresenta Dio Giacobbe ha un incontro ravvicinato con Dio non voglio parlare della lotta voglio solamente dirvi questo che quando Giacobbe quando terminò questa lotta dopo l'incontro con il Signore Giacobbe camminava zoppo aveva aveva l'anca era diventato uno sciancato ora non voglio non voglio dire che chi conosce Gesù deve diventare sciancato no voglio dire che questo incontro tra Giacobbe e Dio produsse un segno cioè tutta la gente vide che Giacobbe camminava zoppo quindi la gente vedendo quel segno capiva che Giacobbe veramente aveva avuto un incontro con Dio ed era un segno visibile a tutti quindi ci sono questi segni nella tua vita non è che ci devono essere per forza tanti segni ma almeno qualche segno c'è del tuo incontro con Cristo perché se non c'è se non c'è nessun segno tu probabilmente hai creduto hai creduto nel Gesù storico nel Gesù che ti hanno insegnato che ti ha insegnato la tradizione probabilmente hai creduto nel Gesù benefattore tu se vuoi Gesù in Matteo 7.21 perché da lì è partita questa riflessione dice chi fa la volontà del Padre mio entrerà nel Regno dei Cieli il Gesù benefattore col Gesù benefattore non si entra nel Regno dei Cieli nel Regno dei Cieli si va credendo nel Gesù Salvatore e Signore vi voglio lasciare con questi scritti sono 7-8 punti che ho scritto su Facebook tempo fa che parlano dei segni della nuova nascita sarebbe opportuno che prestassi molta attenzione in questo momento non mi riferisco all'amico cattolico ma mi riferisco a tutti coloro che si ritengono cristiani se nel tuo cuore cresce sempre di più il desiderio di onorare Dio e diminuisce sempre di più il desiderio della mondanità tu sei nato di nuovo se il peccato diventa sempre di più un disagio che ti mette in crisa ogni volta che cadi se senti il bisogno di liberartene immediatamente mediante una sincera confessione se l'aver offeso Dio procura in te una sofferenza e un peso se produce in te una tristezza che ti conduce all'avvedimento allora se il peccato ti produce tutto questo tu sei nato di nuovo se cadere nel peccato ti lascia indifferente fatti qualche domanda probabilmente non sei nato di nuovo se non puoi fare a meno di leggere la scrittura ogni giorno tu sei nato di nuovo leggi la Bibbia almeno una volta al giorno anche un versetto lo leggi senti il bisogno di parlare con Dio e di ascoltare la sua voce se non senti questo bisogno fatti qualche domanda se dentro di te c'è un cambiamento di sentimenti di desideri di pensieri che ti portano ad assomigliare ogni giorno di più a Gesù e se tutto questo non è il frutto di sforzi religiosi ma l'opera quotidiana dello Spirito Santo allora bene tu sei nato di nuovo se non c'è nessun cambiamento dentro di te se i tuoi pensieri sono pensieri carnali mondani che sono rivolti al peccato probabilmente non sei nato di nuovo ti commuovi ancora quando pensi alla grazia di Dio provi emozione pensando al perdono dei peccati ritieni il perdono dei peccati la più grande ricchezza che Dio potesse donarti se tutto questo ti lascia indifferente forse non sei nato di nuovo se desideri il ritorno di Cristo più di qualsiasi altra cosa se cerchi il suo regno ogni giorno e la sua giustizia tu sei nato di nuovo se senti il bisogno di testimoniare di parlare di Lui se senti proprio il bisogno di parlare di ciò che Egli ha fatto per te questo è un altro segno che dice che sei nato di nuovo ma se tutto questo non c'è nella tua vita tu non hai messo in pratica Matteo 7,21 tu hai creduto in un Gesù che ti ha insegnato la tradizione in un Gesù storico ma non nel Gesù Salvatore e se non hai creduto nel Gesù Salvatore tu non sei salvato questo non è una parola di condanna ma se non hai realizzato ancora tutto questo posterò nella pubblicazione del video questo scritto perché l'ho letto un po' così infarinato ma voglio che lo leggiate questa non è una parola di condanna ma di speranza perché se tu non hai realizzato ancora la vera rigenerazione oggi lo puoi fare andando ai piedi del Signore se ti senti mancante davanti a Lui se ti senti peccatore peccatrice se senti il bisogno di un Salvatore oggi è giorno della salvezza Gesù è ancora potente e forte da salvare concludo con un abbraccio a tutti vi chiedo scusa per la lungaggine ma qui parliamo di spendere una mezz'ora abbondante investita per l'eternità quindi riflettete bene su questa riflessione scusate per le interruzioni e fatevi questo esame personale un esame onesto sincero davanti alla scrittura e chiedetevi sono nato di nuovo perché se non sei nato di nuovo tu non hai creduto in Gesù e quindi non hai fatto la volontà di Dio che parlavamo nell'altra riflessione che il Signore vi benedica che possa toccare il vostro cuore la vostra mente e andate a Gesù andate al Gesù Salvatore egli è forte in potenza egli è potente da salvare il suo sangue ancora oggi salva e purifica non vi scoraggiate se non avete realizzato tutto questo perché ancora oggi c'è speranza andate a Gesù ed egli vi salverà un abbraccio